Parte ufficialmente sabato il nuovo percorso del Forum dei Giovani sotto la presidenza di Benitoventre. Primo consiglio direttivo alla presenza di tutti i consiglieri eletti, insieme, nelle intenzioni dei vari componenti, quella di analizzare i programmi presentati, individuare i punti comuni e partire alla grande. Continueranno così le vecchie attività in programma, come il torneo di calcio, ma potranno essere messe sul tavolo di discussione anche le nuove attività promosse dal plenum del direttivo. Quella struttura diventi un centro utile ai giovani cavesi, che ritorni un poco come lo era prima e anni fa. Questo è il nostro obiettivo. Ovviamente da soli non andiamo a nessuna parte. Il nostro scopo è quella di camminare a fianco dell'amministrazione e con loro costruire un vero centro di politiche giovanili su Cava. Quindi quali sono i prossimi progetti? Continuare il lavoro che è stato svolto in questi anni. Poter aumentare questo lavoro, innanzitutto con la collaborazione di tanti altri ragazzi che si sono avvicinati con le ultime elezioni. Tra le tante cose la creazione di un'aula studio, da qua l'avvicinamento al lavoro, la creazione di una short list per chi cerca e offre lavoro, dall'aiuto alla combinazione di curriculum, alla lettura di bandi europei e progetti per potervi partecipare. Qualche piccola polemica poi su di una presunta politicizzazione delle elezioni del forum e della destinazione del CUC. Su questo il Presidente Ventre è categorico. Qui si lavora per il bene dei giovani. L'approccio politico che intende perseguire il forum non è quello partitico, bensì di politica si parla della gestione di un bene comune, quindi nell'avvicinare i giovani cavesi all'amministrazione comunale e viceversa all'amministrazione al mondo dei giovani cavesi. Quando si entra in interno del forum, si lasci di fuori della porta tutti quelli che sono ragionamenti di partiti e quant'altro. Chi entra in forum entra per lavorare per il bene dei ragazzi, poi che sia di destra che sia di sinistra, che non gliene freghi niente, questo non è un nostro problema. L'importante è che quando si lavora per i ragazzi in interno del forum si faccia solo quello e basta.